Ciao a tutti io sono Tommaso e oggi vi insegno a fare questa cosa qui Si chiama Picture in Picture Andiamo a vedere come si fa Il Picture in Picture non è altro che un sovrapporsi di due immagini, di due video in questo caso Come si fa a fare su DaVinci Resolve? Semplicemente si lavora su più tracce video Diamo un'occhiata direttamente all'interfaccia del programma così riusciamo a capire come fare questo effetto Questa è la nostra timeline con alcune clip classiche E vedete che abbiamo una traccia video In questo caso ho cancellato la traccia audio perché non mi interessava utilizzare la traccia audio Voglio solo farvi vedere come andare a creare un Picture in Picture semplicemente dalla timeline Allora questa è la clip che terremo principale Quindi partirà così E a un certo punto voglio che compaia qui in alto un altro riquadro All'interno del quale mettere un'altra clip Semplicemente prenderò la mia seconda clip Che ho inserito all'interno di video esempio La vado a prendere e a portare all'interno Allora notate bene l'ho presa direttamente da qui Se avete difficoltà in questi passaggi vi consiglio di dare un'occhiata agli altri tutorial gratuiti Che ci sono sul mio sito www.tomasocodolo.com Slash corsi O anche al corso completo di DaVinci Resolve Che trovate sempre lì Il link in descrizione e poi anche qualche codice sconto lo trovate sempre qui sotto Una volta in portata nella timeline se io do play Vedete che il clip che sta sopra sulla timeline sarà quello visibile Quindi scompare la parte sottostante Io invece voglio che questo video sia più piccolo e posizionato lateralmente Semplicemente andrò ad apporre un transform Che troviamo all'interno del nostro inspector Per poter gestire questo spostamento Quindi ricordiamoci abbiamo la traccia principale La track 1 video che sta sotto E la traccia 2 secondaria che sta sopra Vado nel mio transform qui sull'inspector Se non è attivo basta cliccare qui su inspector E possiamo andare a gestire la nostra trasformazione dell'immagine Opzione 1 Lo facciamo da qui dal pannello transform Quindi prendiamo su transform Dove c'è scritto 1.000 E lo spostiamo a sinistra per andare a rimpicciolirlo E poi tramite position ci spostiamo magari avevamo detto verso destra E un po' verso in alto In modo che lo mettiamo in questa posizione qui Ora io do il mio play E mi comparirà il video picture in picture Quindi posizionato qui sopra Torno un attimo indietro quindi comando Z Comando Z Comando Z Oppure posso anche fare semplicemente Reset qui in alto Vedete dove c'è questo pulsantino qui Che mi andrà ad azzerare tutti questi valori Tac E automaticamente mi Ricomparirà l'immagine a schermo intero E vado a trasformare l'immagine in un'altra maniera Senza toccare il pannello Ma in maniera più diretta Io preferisco lavorare con il pannello inspector se devo essere millimetrico Se invece voglio farlo in maniera più veloce mi sposto qui sotto Qui sotto sul viewer di destra abbiamo questo pulsante qui Che ci permette di fare transform crop dynamic zoom Open affix overlay o annotations Ci spostiamo su transform E vedete che mi ha creato la classica gabbia Che potrò andare a spostare E a ridimensionare Semplicemente Trascinando le freccette Quindi vado a spostarlo qua Volendo potrei anche andare a ruotarlo Ma in questo caso non mi interessa E lo posiziono nel punto in cui voglio fare questo picture in picture Quindi inserire un altro video all'interno In questo caso però una cosa che mi piacerebbe fare Per togliere poi la gabbia basterà semplicemente ricliccare Su questo pulsantino qui della trasformazione Una cosa che voglio fare è non avere dei bordi particolarmente nitidi Vedete che i miei bordi qui sono troppo nitidi Io lo vorrei più effetto sogno magari In questo caso cosa facciamo Selezioniamo la nostra clip Ci spostiamo all'interno della gestione Sempre dell'inspector E scegliamo le varie opzioni La prima delle opzioni che possiamo scegliere È semplicemente l'opacità L'opacità totale della clip Quindi possiamo andare magari a renderla un po' trasparente Ok quindi si vede sia sotto che sopra Vedete Come opzione 2 invece Possiamo andare dopo aver visto la parte trasformazione Magari anche quella dei flip E verticali e orizzontali Possiamo andare un po' a croppare la nostra immagine Basterà noi siamo su DaVinci Resolve 16 La Public Beta ma anche la 15 rimane uguale Sotto la sezione di cropping possiamo andare a croppare Vedete l'immagine da una parte piuttosto che dall'altra Ci spostiamo invece nella sezione cropping qui per dargli della softness Vedete che mi avvicino Di modo che riusciate a vedere meglio che cosa sta accadendo Gli ho dato una morbidezza sui lati Vedete così rimango molto definito Così invece creo questa morbidezza sui lati Cosa che mi permette di avere questo effetto un po' più sognatore Ritorniamo al 100% che ve lo faccio vedere come è venuto fuori E l'effetto sarà questo qui Se volessimo averlo ancora più morbido Basterà dargli un fade in Qui in questa maniera qui Quindi spostando il mio Vedete Simbolo del fade in magari a due secondi E otterrò Un qualcosa di ancora più morbido In cui vedete compare l'immagine Piano piano morbidamente Bene anche questo piccolo tutorial su DaVinci Resolve è terminato Abbiamo parlato di picture in picture Grazie a Lele che mi ha fatto questa domanda Se volete farmi delle domande Scrivetemele qui sotto nei commenti Di modo che poi io possa creare dei nuovi tutorial ad hoc Dedicati all'argomento che mi andate a chiedere Ricordatevi di iscrivervi al canale Cliccate mi piace su questo video E accendete la campanellina Per avere tutti gli aggiornamenti sui prossimi video che usciranno Per tutti i corsi gratuiti e a pagamento Ricordatevi che c'è sia YouTube Ma anche il mio sito internet Che è www.tomasocodolo.com Nella sezione corsi trovate tutti i corsi su DaVinci Resolve A me non resta che salutarvi E dirvi che ci vediamo con il prossimo video Ciao